Musica E' stato proclamato per domani giovedì 18 luglio lo sciopero nazionale dei trasporti locali per 4 ore in Campania. Lo stop sarà dalle ore 11.30 alle ore 15.30 e appunto riguarderà tutte le aziende del trasporto pubblico locale ad eccezione della Eav. Vediamo tutte le news e i dettagli nel servizio di Carmine D'Argenio. E' in gioco il futuro della mobilità dei cittadini. I sindacati denunciano le criticità del settore dei trasporti pubblici ed indicano per domani sciopero nazionale dei trasporti. Con 4 ore di stop in Campania dalle ore 11.30 alle ore 15.30 di tutte le aziende del trasporto pubblico locale ed autoferro trambieri ad esclusione delle Eav. Lo sciopero nazionale di domani giovedì 18 luglio è stato indetto da Filt CGL, Filt CISL, Uilt Will, UGL e Faisa CISAL. Dopo mesi di trattative si legge in una nota sottoscritta da tutte le sigle sindacali le associazioni datoriali di Astra Agents ed Anav. non hanno dato alcun riscontro alle proposte contenute nelle linee guida della piattaforma Unitalia Sindacale, anzi hanno assunto posizioni inaccettabili. Questo settore ha invece bisogno per la peculiarità del servizio che svolge di mobilità dei cittadini della massima attenzione da parte di tutti i soggetti interessati, soprattutto per i problemi più volte denunciati, uno su tutti quello di maggiori risorse per il Fondo Nazionale del Trasporto Pubblico Locale e della ripartizione dello stesso alle regioni. Il settore del trasporto pubblico locale, sottolinano Filt CGL, Filt CISL, Uilt Will e UGL insieme a Faisa CISAL, necessita di un rinnovo del contratto adeguato al costo della vita e che permette di dare risposte reali alle condizioni lavorative e retributive, affrontare le conseguenze strutturali carenze degli organici aziendali, degli episodi di aggressioni fisiche e verbali ai danni degli operatori. Il comportamento delle associazioni datoriali sul rinnovo contrattuale è irresponsabile e non coerente con i problemi che vive questo settore, per cui questo primo sciopero, seppur creando disagia il compito, concludono i sindacati di denunciare le criticità dei settori e di far sì che le parti si siedano al tavolo di confronto in maniera adeguata e traguardino il futuro della mobilità dei cittadini. Ovviamente io vi invito a restare aggiornati sul nostro portale www.nanotv.it e su tutte le nostre pagine social. www.nanotv.com.br